Sesto appuntamento del Moto Mondiale, gara del GP di Spagna al circuito Angel Nieto di Erez della Frontera dove in MotoGP c'è il riscatto di Ducati, in Moto2 una prima vittoria in carriera e in Moto3 la gara più bella della stagione per quanto riguarda il campionato della classe entrante. Ma andiamo con ordine e dunque partiamo con il Racing Podcast partendo ovviamente dalla classe regina perché abbiamo parlato di un riscatto e parliamo di Francesco Bagnaia che appunto risorge dalle ceneri dopo 5 gare abbastanza disastrose, eccezion fatta forse per quella di Portimao dove evidentemente partiva indietro e di conseguenza doveva evidentemente entrare una rimonta, qui invece ha dato prova di una forza incredibile su questa pista di una Ducati che con questa combinazione ai Rez si è sicuramente risollevata. Per Bagnaia è importante capitalizzare una pole position in qualificazione molto importante perché ha sgritturato il record della pista, segno che su questa pista probabilmente Bagnaia era il pelota da battere ma non era mai Domo, sicuramente il suo grande avversario ovvero Fabio Quartararo che dopo il GP di Portogallo dove si è ritrovato leader praticamente per sbaglio si ritrova ancora una volta leader ma questa volta confermato una prova di forza importante anche del francese che è vero non aveva il passo per stare con Bagnaia, è stato lì, non aveva il passo per tentare un attacco meglio ma alla fine è comunque un podio salvato per mezzo secondo. È comunque importante questa vettura di Bagnaia perché può certificarlo come un potenziale outsider per rovinare la festa magari ad altri contendenti a meno che Bagnaia non si inventi delle vittorie consecutive importanti per allora tornare di prepotenza in corsa per il Mondiale. Un Mondiale che doveva sulla carta vedere lui e Quartararo come di fatto i due grandi rivali ma che evidentemente per un motivo o per l'altro sono partiti in ritardo. Quartararo si è risollevato nella gara di Portimao, Bagnaia lo ha fatto nella gara di Spagna. Dunque per il pilota piemontese suona il canto degli italiani il nostro inno nazionale. Secondo è Quartararo che ancora una volta fa il Marquez dei bei tempi sulla Yamaha come quando vinse il titolo del mondo. E terzo è ancora una volta Aleix Spargaro che ripeto ancora una volta dopo il Portogallo non è assolutamente un blef e conferma il podio di Portimao e di essere un buonissimo pilota anche a titolo del mondo. Perché come vedremo dalla classifica il pilota spagnolo con la carena numero 41 con l'Aprilia fa sicuramente delle grandi cose e ha dovuto comunque conquistare questo podio meritatamente sul campo dopo una grandissima lotta con Mark Marquez e con Jack Miller. Gli altri due ovvero Bagnaia e Quartararo di fatto hanno concluso una gara in un'altra categoria perché appunto il buon Aleix Spargaro che ha fatto una signora gara in ogni modo è concluso a 10 secondi e passa di distacco che è veramente un'eternità. Per una classifica appunto del campionato mondiale MotoGP che appunto vede un Quartararo primo con 89 punti. Aleix Spargaro appunto con questo secondo terzo posto consecutivo è a meno 7 a 82. Gli altri iniziano già a essere un po' after the music con appunto Bastianini, Rins e Bagnaia che sono indietro soprattutto Bagnaia che appunto è vero vince con queste 25 punti ma sono in totale 56 frutto di un Qatar disastroso, un'Indonesia disastrosa e alla fine da lì in poi un lento risollevarsi. Una gara di Portimao che invece ha dimostrato come la Ducati nella gara europea un po' come la Yamaha di Quartararo in particolare poteva essere il principale contender di questo titolo del mondo ed evidentemente è così. Certo rimontare un distacco del genere è importante seppur siamo neanche a un terzo di campionato perché parliamo di 6 gare completate sulle 21 complessive. Le altre posizioni per quanto riguarda la gara di Portimao o meglio scusatemi di Erez della Frontera appunto abbiamo Mark Marquez quarto che fa una grandiosa gara e ingaggia un gran duello con Aleix Spargaro e Miller alla fine alla meglio del pilota australiano ma con un sorpasso veramente incredibile all'esterno. Un Jack Miller che comunque fa finalmente una buona gara dopo il podio di Austin Texas e finisce quinto diciamo un po' rintuzzando le voci che la danno sempre più fuori dalla Ducati e anche magari di qualche dettatore contro il pilota australiano. Vedremo se già Aleman si potrà confermare il pilota con la gara numero 43. Settimo è Takahaki Nakagami per una Honda che comunque fa una prova importante certo non completa il podio ma comunque ne piazza almeno due in top 10 con il giapponese di Cecchinello che questa volta strabatte Alex Marquez che invece aveva strabattuto nella gara precedente. Ottava posizione è Enea Bastelini che torno a ripetere ancora una volta non può essere considerato un papabile per il titolo del mondo e lo si è visto già da Portimao in questa parte. Io ho detto in realtà già dalle prime vittorie che ha fatto Bastelini sia in Qatar che a Austin Texas e qui evidentemente si è visto tornare nelle gare europee ha fatto bene a Quartanoro ha confermato in aprile ha fatto bene anche a questa Ducati che comunque anche in questa gara ne ha piazza di due nei primi cinque per quanto riguarda la Ducati ufficiale che sembra avere un po' rintuzzato i ranghi nei confronti delle Ducati clienti. In ogni caso è una stagione più che positiva per Bastelini e sarà importante per il piatto del team Gresini che corre ricordo con la Ducati molto inferiore perché poi è una Ducati nel 2021 di comunque difendere delle top 10. Top 10 che ha conquistato egregiamente Marco Bezzecchi sempre su Ducati privata del team Muni VR46 di Bezzecchi ne parleremo più avanti e completa la top 10 Brad Binder per una KTM che va molto a targhe alterne fa delle gare bellissime delle gare un po' anonime questa rientra nella gara anonima perché le KTM in questo caso sono finite after the music. Per quanto riguarda gli altri piazzamenti e parliamo degli altri italiani impegnati abbiamo Marco Bezzecchi già detto, abbiamo Franco Morbidelli che finisce quindicesimo, abbiamo un Fabio Di Giornatore che finisce diciottesimo che appena dietro ha Luca Marini e Andrea Doviziosi italiani che hanno fatto fatica ma non è sorprendente perché comunque la maggioranza di essi corre su una Yamaha che di certo non è la moto più superiore dell'otto anche se non si dice dal punto di vista dell'italiano. Abbiamo visto che Quartararo guida molto sopra i problemi di questa Yamaha di MotoGP e l'abbiamo visto perché Morbidelli rasenta i punti un po' per il rotto della cuffia Dovizioso e Darren Binder di fatto anche loro sono molto indietro ed è evidente come Quartararo anche questa volta ci stia mettendo clamorosamente una pezza. È vero che in tre gare su quattro delle extra europee ha fatto fatica e ha fatto un po' di indonesia su gara bagnata ma qui Quartararo sembra tornato a quello che era partito molto molto bene già all'inizio del mondiale 2020 e anche nel mondiale 2021. Vedremo poi come si svilupperà evidentemente il mondiale anche per lui che peraltro è atteso molto alla gara di casa in quanto si correrà a Le Mans al circuito delle 24 ore ma nella versione corta, la versione Bugatti non la versione completa del circuito della Sartre. Passiamo però adesso ai premi per quanto riguarda la MotoGP prima di passare alle altre categorie di contorno parliamo del rider del giorno e torniamo su quel Marco Bezzecchi di qui sopra perché è vero che Bagnaia e Quartararo hanno fatto un altro sport ma è tanto vero che Bezzecchi ha fatto una grandiosa gara anche lui perché con la Ducati privata del team VR46 di certo finire in top 10 è tutto forché un cattivo viatico quindi complimentoni al numero 72 che completa una gara solida perché se in qualificazione che in gara ha dimostrato il processo di giocare con i migliori Certo si è preso le piste dagli ufficiali, si è preso le piste da chi ha vinto ma è normale che sia così con una moto inferiore ma comunque tanta tanta roba per il numero 72 quindi rider del giorno secondo me a Marco Bezzecchi. Chi invece delude secondo me è l'altro pilota dell'apriglia e parliamo di Maverick Vignales che è vero che sta migliorando sempre di più anche in qualificazione con una moto che non è così facile secondo lui ma comunque è un pilota che potrebbe e dovrebbe fare di più perché abbiamo visto Alessio Spargarò che non è un blef in questa MotoGP ha fatto una vittoria e due podi. Di certo Vignales non è che dovrebbe fare anche lui vittoria e podi ma con la seconda apriglia al netto che comunque quest'anno ha fatto dei test dall'inizio a differenza dell'anno scorso bisognerebbe spesso secondo me puntare quantomeno alla top 10 perché abbiamo visto che questa apriglia è molto importante come rendimento e anche Vignales è chiamato secondo me a fare di più. Quindi per questa gara molto anonima è vero che è stato coinvolto anche in incidenti e in problemi vari ma comunque secondo me Vignales può in generale fare di più e un 14esimo posto mondiale con questa seconda apriglia secondo me non è abbastanza per un pilota comunque talentuoso come lui. Passiamo adesso alle altre categorie in particolare alla Moto2 una Moto2 che non ha riservato in realtà una gara meravigliosa ma comunque è importante perché celebra la prima vittoria della carriera per il giapponese Ayogura che di fatto fa seconda vittoria in stagione per il team Idemitsu Asia che aveva vinto in Indonesia con Somkyat Chantra. Qui invece trionfa Ayogura che veramente fa una gara flag to flag mi verrebbe da dire non è partito in pole position ma comunque ha preso subito la rendita della corsa e la condotta fino al traguardo di conseguenza c'è gloria per quello che fu il vice campione exaco con Arbolino nel mondiale 2020 in Moto3 dove vinse Albert Arenas. E' addirittura la prima vittoria in assoluto in carriera per Ayogura che appunto è il miglior contender della classifica generale. Per il giapponese suona il Kimi Gaio e sono 81 punti in totale di fatto meno 19 da Celestino Vietti che oggi ha dimitato i danni con una sesta posizione. Il podio è comunque molto importante perché secondo è Aaron Kanett che sarà da tenere d'occhio clamorosamente se non si stende per la rincorsa al titolo del mondo. E' veramente un peccato che il podio del suo talento debba comunque partire a Indica perché paga un distacco importante ma evidentemente i 2-0 di Austin e Portimao per il momento lo stanno evidentemente condizionando a una quarta posizione ma Kanett ha fatto una grandiosa gara perché era di fatto in ospedale settimana scorsa, si è operato al polso e non era al centro perito della condizione e ha fatto secondo. Il segno è che su questa moto del Team Pons HP 40 lo spagnolo si trova e di certo non malissimo terzo è Tony Arbolino che appunto fa il secondo podio in tre gara riscattandosi dallo 0 di Austin Texas e sono 70 i punti per il secondo dei nostri migliori italiani. E' una gara di moto 2 che anche qui ha perso dei protagonisti perché perché sono finiti fuori Chantra, Lowe's, Jake Dixon che ancora una volta di poter essere molto incostante ma comunque è un mondiale moto 2 che per il momento è quello più indirizzato diciamo delle categorie che andremo a vedere. Esclusione fatta per la moto E che ha cominciato ai rest della frontiera e vedremo come ci si comporterà a Le Mans. Chiudiamo con la moto 3 dove però abbiamo visto una grande giocata, una grande azione ed è quella di Isan Guevara, questo è il frame dell'ultimo giro, un mucchione incredibile con 6 piloti di carsi e la vittoria. Di fatto sono tutte KTM come marchio ufficiale, poi in realtà se andiamo ad analizzare abbiamo due Gas Gas, tre KTM e uno Squarna ma di fatto stesso gruppo Trattasi. Alla fine Guevara la risolve con un sorpasso clamoroso alla curva Orghe Lorenzo all'esterno, lo vediamo su suo compagno di squadra Sergio Garcia e su Raume Masia, su Red Bull KTM Aio per una tripletta spagnola e per una grandiosa vittoria del numero 28 che è di fatto uno dei grandi contender di questo titolo del mondo moto 3 prevalentemente con il suo compagno di squadra Sergio Garcia e anche con Dennis Foggia che però va detto subito è la grossa delusione del giorno perché Foggia finirà addirittura fuori dai punti, non c'è mai stata chance per i nostri italiani di vertice, c'è stata invece una grandiosa bagarre tra appunto Garcia, Guevara, Masia, Delizonco che a momenti si entrava la prima vittoria in carriera ma alla fine con questa grandiosa manovra la spunta Izan Guevara e di conseguenza è terza posizione nel mondiale per lo spagnolo per il quale suona la marcia reale. In realtà la marcia reale suona anche per gli altri due piloti sul podio perché è una tripletta spagnola, secondo è appunto Sergio Garcia che perde in volata con il suo compagno di squadra ma comunque è un secondo posto importante perché lo spagnolo allunga in testa il mondiale in confronto a questo Dennis Foggia veramente anonimo e delusione di questa Moto3 e terzo è Raume Masia che appunto ha fatto una gara di volata e alla fine ha meglio sul suo compagno di squadra Dennis Onku, in realtà non è il suo compagno di squadra perché Onku in realtà corre col Team Tech 3, il compagno di squadra di Masia e Daniel Olgado che in realtà è finito in nonna posizione. Gli italiani diversi hanno fatto fatica, gare veramente deludenti in questo contesto con fondi a 18esimo, miglia addirittura a 14esimo, il migliore degli italiani va detto è Matteo Bertelle che di fatto è un rookie all'esordio e la seconda gara a punti su 6, Bertelle corre con il team a vinti a QJ Moto ed è veramente importante per lui. Quindi fare esperienza e di conseguenza fare un piazzamento anche in unisima posizione è assolutamente importante ma è clamoroso come appunto il migliore degli italiani sia appunto Bertelle con gli italiani di alta classifica che hanno veramente fatto fatica e sono finiti after the music. Vedremo se Foggia sarà in grado di riscattarsi già nella gara di Le Mans quando appunto si ritroveranno tutte le classi della moto mondiale categoria prodotti dove ci sarà anche la Moto E, una Moto E che velocemente ha esordito nel nuovo format, format 5 qualificazioni sia in gara ci saranno 14 gare per la classe delle moto elettriche divisi su 7 e 20, due sono corse qui a RS e entrambe le hanno vinte Eric Granado con appunto una grande prova del pilota brasiliano, oramai un veterano di lungo corso di questa categoria Granado vince la prima gara davanti a Dominic Gerter e a Matteo Ferrari che è stato il campione della Coppa del Mondo di Moto E nel 2019 all'esordio appunto assoluto di questa categoria Granado vince anche la seconda gara per altre doppietta nella gara 2 del team LCR di Lucio Cecchinello con appunto Michel Pons secondo e c'è un altro italiano sul podio ovvero Mattia Casadei del team Pons HP 40. Per Granado dunque suona per due volte l'inno nazionale brasiliano ed è di fatto 50 punti in testa al campionato e vedremo se ci sarà anche questa diciamo prevalenza del pilota brasiliano anche a Le Mane dove appunto si ritroveranno tutte le gare delle categorie dei prototipi Moto E compreso, una Moto E che comunque anche nella gara di Jerez ha offerto del bello spettacolo, in particolare nella gara 2 dove è stata una grandiosa lotta tra quattro piloti peraltro sfortunatissimo Dominic Gerter che è il leader di Super Sport 600 in Superbike che appunto perde il podio per una grandiosa infilata di Mattia Casadei ancora una volta alla curva Orge Lorenzo. Questo dunque è la panoramica complessiva della moto mondiale e dei prototipi in generale, vi lascio con la classifica della Moto GP che di fatto è ancora una volta il mondiale più equilibrato delle categorie principali Moto E scusa che appena cominciate, il prossimo appuntamento vi ricordo sarà al circuito Bugatti di Le Mans, la versione breve della 24 ore. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo recent podcast sulla Moto GP, il saluto da parte di Matthew Thorgard, ci vediamo a un prossimo video.